da Roma Bruno Pizzola per questa prima partita di campionato tra la Roma e il Cesena tutto dunque pronto ecco i giocatori di Raglieri schierati a centrocampo vengono passati in rassegna dalla telecamera ecco invece il Cesena Cesena che torna in Serie A dopo 20 anni Cesena che schiera nelle sue file Nagatomo ecco Giulio Cesar, Bexess, Joan, Cassetti, Riz, Pizarro, De Rossi, Menez, Vucinic, Perrotto e Totti per la Roma Antonioli, Schelotto, Ceccarelli, Van Bergen, Lauro, De Feudis, Nagatomo, Pellegrino, Colucci, Malonga e Bogdani per il Cesena tutto dunque è pronto partiti Pizarro Benez ancora Pizarro contrastato riesce comunque Cassetti a impossessarsi del pallone dentro per Totti il capitano opera il passaggio verso Perrotta c'è la grande palata di Antonioli poi palla che va ancora in area rimane nell'area del Cesena ottima questa prima azione di Giano Rossi con questo passaggio di capitano Totti Pellegrino Gli ruba palla ancora la Roma quindi arriva Van Bergen in s'accorso del compagno di reparto Malonga fermato Malonga riconquista il pallone ancora Malonga scambia con Bogdani chiuso però da Cassetti Mexess Riz Terrotta Pizarro Menes va via il giocatore della Roma quindi De Rossi dentro per Perrotta Perrotta entra in area va il tiro palla che passa davanti la porta difesa da Antonioli non c'è però nessun giocatore giallorosso a buttarla dentro Vucinic Schelotto Ceccarelli fermato Vucinic attenzione va via Vucinic limite prova a alzare il pallone poi arriva Von Bergen mette la palla fuori ottima anche questa azione dei giallorossi c'è stata la parata di Antonioli palla che probabilmente era già fuori e difatti batte Antonioli Roma ancora vicino al gol trattiene Perrotta De Feudis calcio di punizione che batte lo stesso giocatore del Cesena lungo verso Bogdani salto di testa dietro per Nagatomo il giapponese tiene bene palla poi sbaglia l'appoggio riparte la Roma con De Rossi che dà Perrotta varcata l'asse centrale del campo va via Perrotta inseguito da Schelotto Perrotta sul fondo si gira viene messo terra calcio di punizione per la Roma lo va a battere Tatti palla dentro Perrotta di testa poi arriva la difesa del Cesena spazza via Ries Ries Nexess Menest prova la percussione ma è fermato da Bogdani ecco l'attaccante albanese riesce a eludere l'intervento di Pizarro Bogdani la mette dentro verso Malonga di testa ma palla troppo alta Ottima anche la risposta del Cesena Malonga Nagatomo Lauro Colucci fallo laterale in favore della Roma Cassetti Mexess ancora Cassetti fermato da Colucci che quindi rimette in movimento Malonga ma a sua volta è fermato da De Rossi Pizarro ancora De Rossi Tatti Cassetti lotta con Colucci Cassetti Mexess Gian De Rossi Pizarro gli porta via palla Bogdani Colucci abbastanza ostico questo Cesena Mexess dietro verso Giulio Sergio Ries De Rossi Perrotta Perrotta Bogdani Perrotta Menez Cassetti prova a scendere sulla fascia destra il terzino tocco verso Pizarro Menez tiene palla e poi Colucci ferma tutta ottima la prestazione di questo giocatore Bogdani Mexess Ries Berossi Berossi Perrotta contrasta Pellegrino quindi palla in fallo laterale Von Bergen gli porta via palla Perrotta dentro per Vucinic fermato Vucinic riparte quindi Cesena Coscherotto ottima l'azione del giocatore che si guadagna un calcio di punizione all'altezza dell'asse centrale del campo Von Bergen gli porta via palla per Rotta poi opera un lancio in avanti ma non arriva nessun compagno di squadra quindi può ripartire il Cesena Nagatomo De Feudis ancora De Feudis va al tiro il giocatore del Cesena palla alta Rivio del portiere giallorosso ma ancora mai poco al termine del primo tempo Malonga Colucci ancora Malonga dentro per Bogdani lascia scorrere il pallone Bogdani poi entra in area prova il tiro ma la palla termina fuori calcio d'angolo per il Cesena la battuta Malonga siamo ormai in recupero palla che termina fuori e su questa azione dovrebbe no da anche il secondo calcio d'angolo libera la difesa giallorossa Pisarro Colucci Pellegrino Cesena che insiste nella sua azione d'attacco Mezzes prova a riviare sbaglia tutto ancora il Cesena che prova ad attaccare lo svizzero a von Bergen prova a metterla dentro verso Bogdani colpo di testa della Banese c'è la rovesciata il palo di Colucci incredibile rovesciata del giocatore del Cesena e finisce il primo tempo con un Cesena arrembante all'attacco Roma è Cesena 0 a 0 riprendiamo dallo stadio olimpico per questo secondo tempo tra Cesena e Roma vi ricordo il risultato 0 a 0 tra le due formazioni con un Cesena sorprendentemente all'attacco e nel finale del primo tempo ha sfirato ripetutamente il gol del vantaggio adesso ancora il Cesena che manovra che manovra Nakatomo il giapponese appoggia a Colucci David Pisarro per rotta prova a scendere la Roma con Totti opera un lancio verso Vucilic ma è impreciso Bogdani gli porta via palla la Roma Menez avanza Menez David Pisarro Cassetti Cassetti fermato Cassetti Nagatomo Schelotto Von Bergen ancora Schelotto Ceccarelli Lauro De Feudis David Pisarro Vucilic lo chiude Ceccarelli lo attacca Vucilic Antognoli è un Cesena sorprendente questo che appare in splendida forma mentre la Roma ci sembra ancora un po' imballata De Rossi Perrotta Pisarro va via Pisarro dentro per Vucilic stop di Petri Vucilic da capitano Totti apertura per Perrotta attenzione Perrotta in aria c'è il tiro e la parata di Antognoli non è stato un tiro irresistibile Colucci Magatomo De Feudis Joan Ries De Rossi Perrotta la sovrasta Pellegrino che gli porta via palla poi riconquista il pallone Perrotta da Totti il capitano è fermato da un raddoppio di marcatura è stato ingabbiato Totti fino a questo momento riesce a dar via il capitano si sovrappone Perrotta che diceva adesso il pallone Perrotta va ancora il tiro e c'è ancora la parata di Antognoli attenzione ancora Perrotta Pisarro Perrotta Pizarro va il tiro e palla che termina fuori e gli attaccanti della Roma questa sera non ci sono Vuciric fermato Vuciric messo a terra calcio di punizione in favore dei giallorossi e c'è la munizione di Pellegrino Perrotta Perrotta Totti di testa Perrotta ancora Ries prova a scendere sulla fascia Ries palla in fallo laterale riceve Perrotta viene anticipato recupera Ries Roma che fa fatica a imbastire delle azioni d'attacco ecco Totti che tocca all'indietro quindi Mexes Menest recupera palla il Cesena si spazientiscono i tifosi della Roma sugli spalti raddoppi di marcatura ma l'arbitro dice che c'è fallo calcio di punizione la batte Colucci Malonga De Rossi Cassetti Vucinic ancora Cassetti Juan De Rossi Pisarro Perrotta è sbagliato l'appoggio di Perrotta quindi riparte il Cesena Vucinic attenzione Cesena in avanti con l'Auro palla dentro lontano la difesa giallorossa calcio di punizione Malonga la battuta tre al termine Totti prova a andar via il capitano giallorosso scambia con Vucinic difende il pallone Vucinic Pisarro De Rossi Ries uno al termine va via Ries in quella che potrebbe essere un'ultimazione della partita Ries si gira Ries la tocca verso Perrotta quindi De Feunis Nagatomo ed è finita l'Olimpico Roma e Cesena 0-0 grazie Grazie a tutti.